Fusaro, una battuta al volo perché devo andare da sotto corona. Sì, ovviamente viviamo in un'epoca di bipensiero. Da un lato si dice giustamente che bisogna implementare i diritti dei lavoratori e dall'altra si approvano politiche che vanno nella direzione opposta perché approvare le politiche dell'Unione Europea che sono una scure, vorrei dire, sui lavoratori e sulle classi che lavorano significa peccare di bipensiero. Io credo che non saranno purtroppo i pompieri ad acquisire nuovi diritti ma sarà la condizione che abbiamo visto dei pompieri a coinvolgere sempre più persone. Ci sarà una perdita di diritti perché la globalizzazione dei mercati funziona così. Con una mano togli i diritti sociali e con l'altra dà diritti civili compensativi che fanno fine ma non impegnano perché non toccano il tema del lavoro e della società. Quindi occorre riconquistare quote di sovranità nazionale e difendere l'interesse nazionale che in questo caso è l'interesse di chi lavora, delle classi lavoratrici e in primis di chi serve la patria come fanno i pompieri egregiamente. Allora facciamo così. Grazie. Grazie.